Un'indagine dei sindacati dice che le bollette telefoniche, delle utenze e le tasse comunali uccidono la pensione delle persone. E' un'analisi giusta, perché noi abbiamo lo 0,80 è una delle tasse più alti, Fano e anche dei paesi limitrofi, d'altronde chi è che percepisce una pensione dà fame, questa è la realtà e io sono a tutela di questa gente che non può arrivare alla fine di me. Noi lo vediamo perché operiamo sul suolo pubblico e noi vediamo qual è l'andazzo di questa gente che fa fatica arrivare alla fine del mese. Bisogna dargli una mano, io non voglio discriminare nessuno, ci deve essere dell'equità. Che voci importanti sono nel capitolo mensile? Direi che è una delle voci più importanti, perché col mangiare più o meno uno si arrangia, per il resto ci sono da pagare e bisogna pagare. Chi ha la pensione minima è più in difficoltà? Penso proprio di sì, perché io vedo che non ho una gran pensione purtroppo, però faccio fatica. Io adesso devo dire che a fine del mese ci arrivo perché sto con mia sorella, per cui dividiamo le spese e poi fin dove c'è si spende, non c'è fare il momino. Qui lo Stato non ci aiuta in nessun modo? Sempre peggio. Insomma le pensioni non bastano, si fa fatica. Ma senz'altro, perché nonostante il petrolio sia sceso e poi dell'energia costa sempre tanto, no? E anche le tasse comunali non vi danno una mano? Ah, il comune non ne parliamo, l'immondizia. Si sopravvive a malapena. Diciamo che è un paese che ci succhia, no? Il 6 di giugno era il giorno in cui avevamo nella media nazionale finito di pagare lo Stato. Beh, probabilmente non è il 6 di giugno, ma sarà tenendo conto di tutte le tasse anche il 6 di luglio se non il 6 di agosto. Quindi è una strozzatura, diciamo, terribile. La roba è aumentata e la pensione è sempre quella, praticamente con l'euro ci hanno proprio buttato a terra. Si fa fatica. Si fa fatica, sì, 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 è così. Non c'è niente da fare. Il grande fratello ci ammazza. Sempre sotto c'è un greggio da mungere. Quando il lato è finito, lo vedremo.